Oh, what's your soul saying? Oh, is your world changing? Oh, what's your soul saying? Cari telespettatori e care telespettatrici di Telefriuli, benvenuti allo sguardo dell'anima e buona domenica. Ci troviamo in un posto speciale, come sempre la domenica giriamo tante realtà del nostro Friuli, della nostra diocesi. Ma comincio io quest'oggi perché voglio introdurla dopo due settimane, signore e signori, ecco a voi Anna Piuzzi. Buongiorno Don Daniele, buongiorno a tutte le telespettatrici e telespettatori di Telefriuli. Vi sono mancata. Mamma mia, tantissimo. Infatti ho detto aspetta che comincio io, che così almeno ti facciamo un'entrata di scena. Sì, mancano le scale. Beh, insomma, la prossima volta ci attrezzeremo meglio. Va bene. Allora, di che cosa parliamo intanto questa domenica? Insomma, oggi domenica 16 maggio, è la 55esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, celebrata da tutta la Chiesa e dunque è proprio questo, Don Daniele, il tema che affronteremo oggi. È una giornata particolare che diventa l'occasione per noi giornaliste e giornalisti di guardare all'anno che abbiamo alle spalle, il lungo anno difficile segnato dalla pandemia e quindi ragionare su quelli che sono stati gli inciampi in cui siamo caduti e però anche ragionare sulla luce che siamo stati capaci di portare grazie al nostro lavoro. Ad accompagnarci e a mostrarci la strada, sono ancora una volta le parole preziosissime di Papa Francesco, che ha scelto di intitolare il suo messaggio per questa giornata, Vieni e vedi, comunicare incontrando le persone dove e come sono. Quindi è questa la traccia che tutti noi siamo invitati a seguire. Dunque, com'è stato questo anno? È stato misurarsi con l'inedito, ma anche informarsi, formarsi, trovare le parole giuste e fare un po' anche gli equilibristi tra la necessità di dar conto di quella che era l'emergenza sanitaria ma anche insomma cercare di rassicurare una cittadinanza in allarme per il dilagare del Covid-19, ancora non abituarsi alla conta dei morti, insomma restare umani dentro questo lavoro. Sono state queste appunto le nostre coordinate, ma il Santo Padre ci mette tra le mani anche un'altra bussola senza la quale il nostro lavoro sarebbe davvero monco e non vale solamente per questo anno, ma per sempre. Il Papa Francesco scrive, per poter raccontare la verità della vita che si fa storia è necessario uscire dalla comoda presunzione del già saputo e mettersi in movimento, andare a vedere, stare con le persone, ascoltarle, raccogliere le suggestioni della realtà che sempre ci sorprenderà in qualche suo aspetto. Questo è il tema su cui ci confrontiamo, ma non soltanto nel lavoro dei giornalisti, ma anche proprio come comunica la Chiesa. Don Daniele, allora perché siamo qua e dove siamo soprattutto? Intanto tanti auguri, allora a questo punto a te come giornalista, visto che hai compiuto gli anni. Anche a te perché siamo entrambi giornalisti. Ecco, va bene. E dove siamo? Ma tu lo sai, sì certo che lo sai. Io aspetto sempre da te l'indicazione. E credo anche ai telespettatori. Bene, lo facciamo dire a Marco Simonini, che è il coordinatore del gruppo di riferimento parrocchiale. Buona domenica. Buona domenica a tutti i telespettatori e benvenuti a Pazian di Prato, nella parrocchia di San Giacomo Apostolo. Vi do il benvenuto anche da parte di Don Ilario Virgili, che è il parroco di questa parrocchia. Oggi impegnato in seminario perché è impegnato con i seminaristi. E quindi vi do il benvenuto anche nella nostra comunità parrocchiale, che fa parte della collaborazione di Pazian di Prato, che comprende anche le frazioni a noi vicine, che sono quelle di Passons, di Colloredo di Prato e di Santa Caterina. Quindi benvenuti. E io lascio spazio adesso ai collaboratori che vi introdurranno all'argomento della comunicazione anche per quello che riguarda la nostra parrocchia. Grazie, grazie davvero Marco per la vostra ospitalità insieme a Don Ilario, che abbiamo anche già incontrato in qualche puntata precedente dello Sguardo dell'Anima. E allora vogliamo lanciare la nostra clip di Giovanni Lesa per capire un pochino di più qual è il tema di questa domenica. Si celebra oggi la 55esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che Papa Francesco ha intitolato Vieni e Vedi, comunicare incontrando le persone dove e come sono. Unica celebrazione mondiale voluta dal Concilio Vaticano II, si tratta della giornata in cui la Chiesa Cattolica riflette sull'impiego degli strumenti di comunicazione per diffondere il messaggio evangelico. Una comunicazione, quella ecclesiale, accelerata dalla pandemia. Durante il primo lockdown, nella primavera del 2020, si sono moltiplicate iniziative di vicinanza ai fedeli svolte in diretta streaming, comprese le celebrazioni della Messa. Nelle parrocchie dell'Arcidiocesi di Udine, la comunicazione è stata accentuata dalla pandemia, ma va ancora molto a rilento. Su 54 collaborazioni pastorali, soltanto 6 si sono organizzate con un proprio sito web. A questi si sommano i siti di 28 parrocchie. Più frizzante è la situazione sui social media, in cui le parrocchie dell'Arcidiocesi di Udine contano 67 pagine Facebook, 23 profili su Instagram e 17 canali di video su YouTube, strumenti gestiti per lo più dai giovani degli oratori. A proposito di giovani, diversi gruppi scout sono attivi con siti web e profili sui loro social media. L'uso delle nuove tecnologie si è affiancato ai più tradizionali bollettini parrocchiali. Strumenti con cui le parrocchie possono far entrare la propria voce nelle case della cittadinanza. Eppure, quello della comunicazione non è soltanto un tema istituzionale. È ciò che ciascuno di noi dice o scrive che denota la sua capacità di mettersi efficacemente in contatto con il prossimo, di persona o su internet. Ai contenuti si aggiunge la forma. Che stile ha la comunicazione di ciascuno di noi? Un argomento certamente molto interessante quello di questa domenica perché riguarda davvero ciascuno di noi. E vogliamo capire anche come una parrocchia comunica. Allora ci troviamo con la responsabile della comunicazione, dell'ambito comunicazione della parrocchia di Pasiandi Prato, in particolare anche del bollettino parrocchiale Anna Maria Fell. Allora, di quali strumenti si avvale la comunicazione della vostra parrocchia? Beh, la nostra parrocchia anche in virtù del periodo che purtroppo abbiamo dovuto vivere ma che da un certo punto di vista ha permesso di avere delle descugitare delle nuove strade, nuove strategie, ha acquisito tutta una serie di modalità di comunicazione particolarmente anche se vogliamo attuali e comunque molto varie. Passiamo dalle informazioni pure semplici che sono reperibili da foglietti domenicali che vengono messi in fondo alla Chiesa ma che poi sono pubblicati anche sul sito. Passiamo poi alle diverse comunicazioni dei canali YouTube, di Facebook, quindi social che sono entrati così in maniera anche abbastanza significativa all'interno della comunicazione della nostra comunità e poi appunto il bollettino. Il bollettino che rappresenta una grande novità. Certo che queste nuove modalità di comunicazione sono tante e diversificate e c'è un motivo perché nella comunità abbiamo persone anziane, abbiamo giovani, abbiamo ragazzi, abbiamo adulti e ciascuno ha un suo strumento di comunicazione che ritiene più utile per poter entrare in relazione con la parrocchia in qualche modo. E quindi ci è sembrato questa diversificazione potesse essere un'espressione della comunità. anche se facciamo nostre le parole appunto di Papa Francesco comunque al di là di tutto il viene e vedi, la comunicazione, il rapporto con la persona resta prioritario. Però gli strumenti in quanto tali possono aiutare a creare questo senso di comunità. Certamente tutti questi mezzi sono davvero importanti soprattutto appunto dicevamo i social in questo tempo. Ma parliamo per un attimo di bollettino parrocchiale, uno strumento antichissimo a dir la verità però parlava di novità. Perché? Perché diciamo fino a quest'anno il bollettino era un foglio di informazione interno. Abbiamo così riflettuto a lungo e abbiamo scelto di trasformarlo in un bollettino vero e proprio registrato al tribunale e quindi una vera e propria pagina relazionale. E questo perché crediamo che anche il bollettino così tradizionale cartaceo sia fondamentale. È fondamentale perché dà uno spaccato di quella che è la vita della comunità. Quindi più la comunità è viva, più la comunità ha una sua interna espressione diventa veramente lo strumento che la riflette e che la comunica. e soprattutto perché in realtà la comunicazione del bollettino diventa proprio una comunicazione di prossimità cioè diventa può raggiungere anche le persone che normalmente non frequentano la comunità parrocchiale e quindi dare a tutti questa rappresentazione di quella che è la nostra vita. Potremmo dire davvero una chiesa in uscita anche attraverso questi strumenti di comunicazione che sono anche tradizionali però rappresentano una novità. Grazie ad Anna Maria per questi approfondimenti. C'è però tutta la parte social allora andiamo a scoprire Anna dove si trova e con chi. Eccomi Don Daniele parlate di mondo digitale dunque sono insieme a Leonardo Leesa che è responsabile dei siti web e dei social media della parrocchia di Pazian di Prato. Leonardo benvenuto allo sguardo dell'anima. Ecco da poco la vostra parrocchia utilizza questi che vengono chiamati nuovi strumenti ecco in che modo la parrocchia è presente e attiva online? Beh su due aspetti diciamo abbiamo iniziato con un aspetto base diciamo che è il sito internet della parrocchia dove tutte le informazioni che già prima Anna Maria ha dato che si danno sui foglietti informativi da domenica o col bollettino stesso che viene caricato comunque sul sito quindi gli avvisi e tutte le notizie anche che riguardano la parrocchia ecco è un sito che viene aggiornato di frequente ogni settimana almeno due o tre giorni a settimana quindi siamo partiti da quello per poi passare grazie diciamo grazie insomma alla pandemia anche alla pagina Facebook della parrocchia dove vengono riportate anche lì le notizie principali perché anche in quel modo lì insomma si può arrivare a qualcuno e adesso di recente abbiamo costruito il nuovo sito internet della nostra scuola dell'infanzia paritaria San Luigi e anche la scuola dell'infanzia possiede una pagina Facebook anche quello per tutte le foto informazioni da dare ai genitori anche penso ecco ecco quindi davvero un modo per essere anche online comunità in un momento in cui magari non sempre ci si può incontrare ora la pubblicità torniamo tra pochissimo per parlare ancora di digitale eccoci di nuovo allo sguardo dell'anima siamo insieme a Leonardo Lesa responsabile dell'online della parrocchia di Pazian di Prato ecco Leonardo pensando proprio all'uso dei social media in che modo utilizzate i vari Facebook Instagram e Youtube per portare il messaggio del Vangelo ecco dipende molto anche dalle fasce d'età un po' lo diceva anche Anna Maria prima quindi abbiamo il canale Youtube sia della parrocchia che anche dell'oratorio anzi aperta parentesi l'oratorio in questo momento un po' difficile dove non poteva riabbracciare i bambini e i ragazzi ha deciso di uscire attraverso il canale Youtube e quindi con dei progetti con dei balli con dei momenti di cucina dei giochi ecco online è andato nelle case dei bambini e dei ragazzi quindi questo è il primo obiettivo per quanto riguarda questa fascia di età per quanto riguarda invece anche la pagina Facebook vuole essere un mezzo per arrivare al fine al fine che abbiamo visto prima la chiesa dove ogni domenica si celebra ecco l'eucarestia quindi questi due strumenti vogliono essere appunto un aiuto per arrivare in quel posto lì per poter contemplare per poter pregare quindi ecco il sito può aiutare a questo ricordare qual è l'appuntamento la scadenza giornaliera perché ogni giorno su Facebook c'è un post della parrocchia che vuole ricordare un appuntamento oppure un'iniziativa oppure qualcosa dedicato alla preghiera ecco quindi anche l'aspetto spirituale quindi sono tutti mezzi per arrivare al fine ultimo che sappiamo essere molto più grande ecco e lo fate davvero in maniera molto efficace con una presenza molto importante grazie davvero per essere stato con noi stare sul web richiede nuove sfide pone nuove criticità e allora c'è proprio nella nostra regione mandato in tutta Italia il progetto Parole Ostili vediamo di che cosa si tratta ce ne parla Tiziana Montalbano intervistata dal nostro Giovanni Lesa siamo in compagnia di Tiziana Montalbano responsabile della comunicazione del progetto Parole Ostili siamo in collegamento da Trieste innanzitutto grazie per essere con noi Tiziana ben trovata grazie grazie a voi buongiorno a tutti e a tutte grazie dell'invito abbiamo citato questo progetto di cui di cui fai parte Parole Ostili ci puoi raccontare in breve di che cosa si tratta che il progetto è e qual è il suo obiettivo principale certo Parole Ostili è un progetto di sensibilizzazione contro la violenza delle parole nasce proprio con diciamo lo scopo di sensibilizzare le persone che vivono la rete ad utilizzare parole di responsabilità parole che rendano le nostre relazioni digitali sostenibili diciamo che l'obiettivo forse principale quello più facile conosciuto a tutti è quello di proprio contrastare quello che chiamiamo hate speech quindi quello che è la violenza delle parole delle parole sul web ovviamente poi diciamo che il progetto ha un respiro molto più ampio quindi ci rivolgiamo in realtà un po' alle relazioni in generale non soltanto quelle online ma quelle offline la parole stile ormai ha quattro anni è nato nel 2016 da un'idea di Rosy Russo che è l'attuale presidente dell'associazione è una creativa appunto di Trieste e nasce da un'esigenza in parte professionale perché appunto quotidianamente ci occupavamo di gestire le pagine social di tanti clienti ci accorgevamo che era difficile relazionarci con le community che diventavano sempre più aggressive e in realtà anche la nostra esperienza personale con i nostri profili social cominciava a diventare faticosa e allora ci siamo detti cosa possiamo fare per in qualche modo dare il nostro contributo di comunicatori a invertire questa tendenza della comunicazione e dello svilimento del linguaggio abbiamo chiamato a raccolta tanti nostri colleghi comunicatori giornalisti esperti di marketing e abbiamo fatto un appello anche alla rete da tanti contributi da tante idee è nato il manifesto della comunicazione non ostile quello che oggi è il nostro principale strumento di divulgazione quindi un progetto veramente ampio e condiviso e a proposito di condivisione proprio nel messaggio che oggi Papa Francesco ha lanciato per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali si cita una parola che anche tu Tiziana poco fa hai nominato la parola responsabilità anche il manifesto della comunicazione non ostile che è se possiamo dire il principale frutto del progetto parole ostili in molti dei suoi punti parla proprio di responsabilità ma cosa significa essere responsabili delle proprie parole anche online? Allora il manifesto è come hai detto bene un atto di responsabilità un atto di responsabilità personale è una sorta di bussola un indicatore che ci permette di orientare le nostre scelte le nostre comunicazioni è importante come dire sceglierlo per relazionarci bene online e vivere il digitale in maniera molto responsabile e appunto come dire sostenibile nel messaggio di Papa Francesco una delle cose che ci ha colpito particolarmente dice che la vera comunicazione è incontrare gli altri quindi forse uno dei nostri principi che è il primo che è virtuale reale la racconta la racconta molto bene perché noi diciamo sempre che non possiamo più distinguere quello che è online da quello che è offline e in questo passaggio del di Papa Francesco si racchiude bene la diciamo la sintesi di queste due cose al di là del fatto che siamo offline o che siamo online la vera necessità la vera urgenza è incontrare l'altro e che significa non incontrarlo ovviamente fisicamente ma in qualche modo è in una connessione di comunicazione ecco hai citato proprio il primo dei punti di questo manifesto questo decalogo perché poi sono dieci i punti del manifesto della comunicazione non ostile il primo dei quali appunto recita virtuale e reale allora ecco pensando alla vita reale ma quindi anche al virtuale e alla nostra comunicazione il nostro uso delle parole quali sono secondo te secondo voi anche gli atteggiamenti che rendono più fruttuosa la comunicazione di ciascuno di noi allora diciamo che le azioni che si possono fare sono tante e soprattutto sono nel piccolo nel quotidiano della nostra giornata spesso ci accorgiamo che i messaggi violenti online sono tanti sono numerosi ma ci sembrano tanti ci sembrano numerosi perché noi che utilizziamo come dire una comunicazione non ostile o comunque le persone che in qualche modo utilizzano la gentilezza sono meno rumorose quindi forse uno degli impegni che potremmo fare è in qualche modo quello di cercare di attivare proprie azioni più concrete nella quotidianità per dire noi così non ci stiamo che poi la parte come dire la scintilla che ha fatto scaturire il progetto parallo stile ci siamo detti noi così questo gioco non ci piace tantissimo vogliamo in qualche modo ridefinirne lo stile quindi come dire la quotidianità le nostre piccole azioni online scusate fanno la differenza grazie allora prendiamo queste due parole finali come un invito un appello proprio alla responsabilità di cui abbiamo parlato poco fa anche nell'utilizzo delle nostre parole dei nostri atteggiamenti in modo costruttivo online ma anche offline perché appunto virtuale è reale grazie Tiziana per essere stata con noi assolutamente grazie grazie a voi arrivederci grazie e nella giornata delle comunicazioni sociali non possiamo non parlare dell'articolato sistema dei media diocesani e ora un video ce li racconta la comunicazione nell'arci diocesi di Udine può contare su strumenti molto differenziati il mezzo principale per diffusione e tradizione è il settimanale la vita cattolica disponibile nella doppia edizione cartacea e digitale il settimanale offre ogni settimana una panoramica sul Friuli inquadrandolo da svariati punti di vista economia e cultura salute e politica chiesa e sport il tutto con un'attenzione particolare alla vita e alla lingua delle comunità anche piccolissime che costellano il territorio friulano a proposito di territorio l'emittente radiofonica radiospazio raggiunge ormai tutte le zone dell'arci diocesi e non solo essendo disponibile anche in streaming via internet ai freschi notiziari disponibili anche in lingua friulana si affiancano rubriche di cultura cucina sport benessere attualità economia e vita ecclesiale e il mondo digitale? negli ultimi anni l'arci diocesi udinese ha investito molto sul tema web aprendo diversi siti web istituzionali legati alla vita ecclesiale diocesana e ai diversi servizi offerti dai centri pastorali accanto ai siti web ecco la fresca animazione digitale dei social media con profili su facebook instagram twitter youtube e persino telegram la vita ecclesiale e non solo è davvero a portata di click eccoci di nuovo insieme a don daniele e antonello tanti gli spunti tante le suggestioni anche le esperienze che si fanno sul territorio ecco don daniele la chiesa da duemila anni predica una notizia una buona notizia si può dire che la missione della chiesa è fare dare una certa comunicazione cosa comunica la chiesa? comunica quello che ha comunicato Gesù nel Vangelo troviamo tanta speranza tanta consolazione compassione anche nei confronti del mondo intero e credo che questa sia la più bella notizia che poi tra l'altro ci troviamo ancora nel tempo di Pasqua questa domenica viviamo l'ascensione di Gesù e quindi diventa proprio il tempo nel quale poter comunicare la speranza al mondo ma ti pongo un'altra domanda anche a te a questo punto da giornalista e tu invece nella prospettiva cristiana come vivi il tuo essere giornalista? Beh sicuramente ce lo dice questo anno della pandemia cercando veramente di fare quello che dice Papa Francesco cioè consumare le suole delle scarpe per andare e incontrare le persone esattamente dove sono ma insomma credo che questo sia comunque una prerogativa non soltanto di chi ha una visione cristiana ma insomma di chi fa del buon giornalismo e cerca di raccontare il mondo esattamente com'è quindi insomma queste parole di Papa Francesco davvero ci accompagnano con maggior forza facci vedere le suole un attimo eh no questo non ve le mostra va bene noi siamo in conclusione di puntata vi auguriamo davvero una buona domenica c'è la Santa Messa e da Pasian di Prato dunque è tutto buona domenica a tutti is your world changing oh 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 what's your soul